Presidente, un'edizione di Santo Ronzo ovviamente sotto le righe, ma gli imprenditori e Confindustria tornano comunque a sperare. Ovviamente dobbiamo farlo, ovviamente siamo fiduciosi sul fatto che da questa situazione si debba uscire, per cui un invito a tutti a vaccinarsi perché credo sia una delle vie più brevi per uscirne. Naturalmente sì, è più contenuta se vogliamo, ma è sempre un momento importante per la città e per il territorio. Gli imprenditori ci sono sempre perché gli imprenditori comunque in ogni occasione di questo genere trovano un momento di rinascita e tutti quanti ci dobbiamo augurare, ripeto, che questo momento sia di ripresa fortissima per l'economia e per l'intero paese.